Sindaco Morelli, una vittoria importante partendo proprio dai numeri che vi dà la maggioranza? Sì, una vittoria molto importante perché sinceramente quando abbiamo iniziato questo percorso non pensavamo assolutamente ad arrivare a una maggioranza assoluta. Questa è una gioia che ho dentro di me, che voglio dividerla con tutti i miei ragazzi che fanno parte della lista e specialmente con tutti i mariglianesi che ci hanno dato fiducia. Quindi cosa vuol dire superare il 50% adesso per quanto riguarda la governabilità naturalmente? Ma superare il 50% è innanzitutto il risultato che dà quella forza di dire alla gente che abbiamo la maggioranza e quindi non possiamo essere ricattati in ogni caso da niente, nel senso che la maggioranza dei San Giovanni l'ha ottenuta il centro-sinistra e quindi questo qui ci deve dare ulteriore forza per imboccarci le maniche e per con i nostri mariglianesi creare un futuro ancora più migliore di quello che c'è adesso. Partite da dove? Da quale necessità? Quali sono gli obiettivi primi? I primi obiettivi è quello che ci siamo posti, che nei primi 100 giorni di effettuare una ricognizione totale sui nostri pressi scolastici. La politica che ci prospettiamo innanzitutto è quella di condividere con i mariglianesi tutte le scelte che vogliamo fare e devo dire sinceramente che nel passato forse quello che è venuto meno è stato proprio il confronto diretto con i nostri cittadini. Noi abbiamo improntato la nostra campagna totale sul confronto, sull'ascolto e sul dialogo e vogliamo continuare su questa strada.